buonasera a tutti quanti questa notte fa caldo alle 1 e 46 minuti oggi è martedì 25 aprile 2023 ci sono 13 gradi 13 gradi quando fa per niente freddo si sta bene cioè non fare caldo e freddo si sta bene abbiamo appena lavato la macchina che era sporca era dopo la piaccia ieri sera devo dormire e vi auguro buonanotte tutti quanti ci sentiamo domani ciao ciao baci baci baci